Cinque strani incontri al supermercato Se non c'hai la mascherina anche un paio di mutande vanno a bere Oh, quando la spesa è stressante ti devi pure riposare un attimo Ognuno si concia come vuole, perché no? Questa invece è proprio quei trampoli Cioè questa qua praticamente per comodità ha usato i pancarè e ci si è messa sopra con le ginocchia